Quella di cui sto per parlarvi oggi è una ricetta del cuore. Sono i biscotti da latte di Nonna Maria e l'amore che passa dal cuore alle mani. Per fare le paste da latte di Nonna Maria avremo bisogno di farina, scorza di limone, uova, zucchero, olio extravergine di oliva, ammoniaca e latte caldo. Trasferite in una ciotola la farina e aggiungete lo zucchero. La scorza di limone grattugiata, l'olio extravergine di oliva, le uova e mescolate. Nel frattempo riscaldate il latte. Sciogliete l'ammoniaca con un po' di latte caldo. Vedrete che si verrà a formare una schiumetta. Questo sta ad indicare che il lievito presente è attivo. Aggiungete l'ammoniaca sciolta alla farina. Mescolate. E quindi iniziate ad impastare aggiungendo altro latte caldo. Aggiungete ancora latte caldo e impastate. Dovrete ottenere un composto morbido e liscio. Trasferite sul piano di lavoro e impastate energicamente. Prelevati dei pezzi di impasto. e formate i biscotti, della grandezza che preferite. Trasferite i biscotti su una teglia foderata di carta forno. Spennellate i biscotti con del latte. E quindi aggiungete lo zucchero in superficie. Cuocete in forno caldo a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Le paste da latte di Nonna Maria sono pronte. E sono veramente le più buone in assoluto. Nonna, questa è per te.